Ecco Connie, è pronta la merenda che ti ho preparato! Un buonissimo cupcake! Oh grazie tata, avevo proprio fame! Grazie mille per avermi preparato la merenda! Figurati Connie, l'ho fatto con piacere! Buonissimo tata, è veramente buonissimo questo cupcake! Ehi, ciao Torgui, che fai? Ehi, ciao Opi, sto giocando con i miei bellissimi peluche profumati! Che bello! Ehi, ciao Dottie! Ciao Opi! Dottie, che cosa stai facendo di bello? Sto guardando la mia adorata TV! Che bello! Posso guardarla insieme a te? Ma certo che puoi Opi! Ehi Opi, va bene se metto Frozen che è il mio cartone preferito? Ma certo, va benissimo! Ok, lo metto! Sai Dottie, sai che Frozen è anche il mio cartone preferito? Ma no, non è vero! Non è mai stato il tuo preferito! Sì, adesso ho cambiato idea! È proprio il mio cartone preferito! Ok, continuiamo a guardarlo! Ok, adesso che è finito il cartone, io vado a giocare un po' a palla! Va bene Dottie! Adesso prendo la mia bella pallina! Pallina presa! Ok! Adesso giochiamo con la palla! Sì! Evviva! Che bello! Sì, troppo bello giocare con la pallina! Ma chi è? Ciao Dottie! Ciao Opi! Che cosa fai? Te l'ho detto! Sto giocando a palla! Mmm, ok! Anch'io vorrei giocare a palla! Prendo questa! Metà rosa e metà bianca! Mmm, ok! Va bene! Gioco con la palla! Sì, palleggio! Sì! Ehi! Call! Call! Che bello giocare a palla! Mmm, adesso io cambio gioco! Che cosa fai? Eh, non lo so! Ci devo ancora pensare! Scendo! Mmm, uffi! Adesso neanch'io ho più voglia di giocare a palla! Allora Connie, adesso ce l'hai il pancino pieno? Sì, grazie Tata! Adesso vado su a giocare! Va bene Connie! Buon divertimento! Ciao Tata! Ciao Dottie! Che fai qui? Hai fame? Ho appena fatto la merenda a Connie! Se vuoi la faccio anche a te! Mmm, no grazie! Non ho molta fame! Ehm, mi sa che Hopi mi sta copiando un pochino! Dici? Alla fine i giochi da fare sono sempre quelli! Magari sono una tua impressione! Vabbè, comunque adesso faccio un bel disegno! Va bene Dottie! Ti prendo i fogli! Ed ecco qui Dottie! Il foglio per te! Grazie mille Tata! Ciao! Ciao Hopi! Come va? Tutto ok Tata! Che cosa stai facendo Dottie? Volevo disegnare! Oh che bello! Anche io vorrei disegnare! Va bene Hopi! Adesso ti do un foglio! Ed ecco il foglio anche a te Hopi! Grazie mille Tata! Cosa disegnerete? Mmm, vado via e poi vi fate la sorpresa! Ok? Io credo che disegnerò un bel fiore! Da regalare alla Tata! Ho finito il disegno per la Tata! Finito anche io! Non posso crederci! Adesso basta! Bimbe! Cosa avete disegnato? Ehm... Basta! Adesso basta! Mi hai ricopiato per tutta la giornata! Ma perché mi ricopi? Calmati! Calmati Dottie! Adesso ci penso io! Hopi! Dimmi Tata! Come mai? Perché lei è sempre brava in tutto! Mi piace tanto come fa Dottie! La stimo molto! Ehi Hopi! È molto bello quello che hai detto! Anche io ti stimo molto come sorella! Mi piace cosa fai, quello che fai e come lo fai! Dottie! Se Hopi fa così vuol dire che è un pochino insicura! E che ti prende come esempio da seguire! Ma la cosa che deve capire lei è che... Che ognuno è bello per quello che è! Ognuno di noi è diverso! E ogni persona è bella a proprio modo! Non c'è bisogno di copiare gli altri per sentirsi più sicuri! Ognuno ha la propria personalità, le proprie qualità e i propri interessi! Non bisogna far così! È proprio vero! Avete ragione! Scusa Dottie se ti ho infastidito oggi! Non succederà più! Farò solo quello che mi andrà di fare! Senza ricopiare gli altri! Capisco che oggi ti ho dato un pochino fastidio! Mi perdoni! Ma certo che ti perdono Hopi! Ti voglio bene sorellina! Siamo diverse! Ma ci vogliamo un mondo di bene! E' proprio perché siamo diverse che siamo speciali! Ciao a tutti! Speriamo che questa storia vi sia piaciuta! Vi ricordiamo di iscrivervi al canale! Iscrivetevi per favore! E di mettere un mi piace al video! E ovviamente vi è piaciuta la nostra storia! Se noi vediamo che ci iscrivono le persone al nostro canale E mettono mi piace ai nostri video Continueremo a girare le nostre storie! Perciò iscrivetevi! Basta Tata! Hanno capito! Scrivete Tata se avete visto il video fino a qui! Nei commenti! Noi adesso vi salutiamo! E ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao a tutti! Ciao!